Gelo diplomatico fra Grecia e Gran Bretagna, un'altra volta e sempre per i marmi del frontone del Partenone, le meravigliose statue scolpite da Fidia 2.500 anni fa. Riposano al British Museum di Londra, ma la Grecia le rivuole. E così, in visita nella capitale britannica, il premier greco Kyriakos Mitsotakis, in un'intervista alla BBC, ha spiegato una volta di più che la Grecia è legittima proprietaria di questo capolavoro dell'umanità, rifiutando l'ipotesi di una suddivisione. Irritato, anzi molto irritato, il premier britannico Rishi Sunak ha annullato l'incontro previsto col collega greco, offrendo un downgrade, un colloquio con il vice premier Oliver Dowden. Mitsotakis non ha accettato ed è ripartito per la Grecia. La posizione ufficiale di Londra è che i marmi furono acquistati legalmente da Thomas Bruce, Lord Elgin, all'inizio dell'Ottocento e poi acquisiti dal British. La Grecia ribatte che a venderli furono gli occupanti dell'impero ottomano che non avevano alcun diritto di disporre del patrimonio nazionale. E che rifiutarne il rimpatrio è anche una forma di razzismo, come se Atene non fosse in grado di occuparsi delle statue. Mentre il Museo dell'Acropoli, una bellissima recente struttura, è stato costruito appositamente per conservare tutta la storia dei templi ateniesi e il posto d'onore dei capolavori di Fidia all'ultimo piano, è tristemente occupato da copie. Anni fa il Parlamento britannico aveva perfino approvato una legge per vietare la restituzione dei cosiddetti marmi di Elgin. D'altronde sono fra i pezzi più famosi della collezione del British Museum, attirano milioni di turisti e di conseguenza soldi. E pensare che Mitsotakis e Sunak avrebbero dovuto discutere di conflitti in Ucraina e in Medio Oriente.